Sono arrivati a Castel di Sangro scortati dai mezzi Anas e poi hanno trasportato circa 72 passeggeri diretti nella capitale. Anche la ditta Pistar è stata in prima linea per fronteggiare le emergenze legate a maltempo dell'epifania, assicurando tutte le corse, nonostante neve e bufera, ostacolassero e non poco la viabilità. Il servizio è stato garantito e assicurato regolarmente. Non ci siamo mai fermati nemmeno con la bufera in corso, spiega Massimo Presutti, direttore dell'omonima ditta. Siamo riusciti a mantenere in attività i nostri mezzi anche in condizioni atmosferiche avverse e abbiamo consentito a un gruppo nutrito di turisti rimasti bloccati nell'Alto Sangro di rientrare a Roma. Una settantina infatti le persone salvate da Pistar domenica scorsa. La maggior parte erano turisti che rischiavano di rimanere bloccati nelle località turistiche dell'Alto Sangro dopo la fitta nevicata che ha mandato in tilt la viabilità. Una realtà quella di Pistar che è riuscita ad assicurare un servizio di trasporto con le sue sole forze, servendo un ampio bacino di utenza in condizioni di piena emergenza.